A me sta chiamando più i coglioni. Chiamando più i coglioni? E poi mi chiamando più i coglioni. Non sempre sarai chiedendo il cazzo, ma è il vomit, sono io a te, ma mi hai mai sbocato? Eh, ma giro un po' il cugno. Dica, ma non sempre devo dare a te a te chiedere, io devo fare un cazzo in sicchio. Posso tagliare giù a te, ma se non vedete che c'è un ciozzo. Andiamo a spalare le dame, a mongerare i tor, a spigolare. Teorie mie devono essere un bariticeo della spiaggia e rendere la mia spuma o orgo del genere. Qual è il mio? Sì, sì, è un bel bariticeo. Secondo me è una bariticeo. A me piacerebbe questa domanda. Sì, sì, sì. L'erba è un baracchino in Sud America, tipo, ma andiamo a cagate, c'è un bel apparecchio e poi la direzze. Oh, ma ti giuro che lo direi da Monticiar. Ma che cazzo in solito? Mi preoccupo per me. Penso che l'ultima volta, ma sono sbocato addosso l'aereo e dopo mi è venita poi cagate, fulminante. Ma che cazzo! Tu sei gordo, eh? Ostraga, se mi sarei gordo, è un grosso mondo per te. Sì. Posso imparare, cazzo? Secondo me potete andare a prendere i bariticeo e fai pigli a 15 euro sono a posto. 15 euro. E il primo che mi rompe i coglioni, giuro, che tu non hai messo i 10. Ma non hai messo i 10. Ma non hai messo i 10. Forse un bel mani a debattire? No, no, che tu non hai messo i 10 che li hai messo. Pam, sai che non è. Sappiamo il piatto. Più o meno grossi sei, capito? Ma non hai messo i 3 cagate che non hai messo i 10. Ma non hai messo il piatto. 300 euro credo che la compro, tanto sono in vacanza. L'importante è andare a fare i coglioni da quel posto di merda che... Poi dopo decidono. ...che snaccarino c'è insomma. Sì, vengono i pirli. Cosa sono sei? Non fanno dire che le stelte ci sono le insomma. Basta anche l'olio. Non ho parole poche... ...fanno le ocche. Secondo me, anaco non mi spiocca. Alla fine. Bariti. Bariti. Se la spiaggia. Bariti. 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 Bariti la faccia mia che tu hai in casa circa. Ma dite non per le miei coglioni! Ma che sei sulletto? No sullo scherzato, porca troia. è un besta no! è bellissimo ma tu proprio c'hai la voce ah vabbè lui parla di quella indifferenza proprio come la faccia sua si Ado, ho sempre andato a te perchè gli buoni fanno c**o nessuno che dite non l'ho registrato però ma fanno c**o con la fettacità tipo le limonade o qualcosa del genere la scuola la scuola le limonade fa le te le limonade ma qua stai registrato? si 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 è spenta da che scherbo? ho capito che questo mi dice due cose hai guardato di là era tutto lento un po' di un un po' del genere calcio per il mio c'è per il mio fall oh ecco l'ultima volta ma sono un po' sboccato ad os e poi ma si mette un po' il cacchio e che vuoi? mi mette un po' il cagot che schifo vuoi far ridere? e quindi vedi quello lato e la voce che riga stavi scherzando se sono scuola si esatto erano le taccine stavo facendo così stasso guarda come questa tecnologia mi sta rovinando allora guarda allora anche allora Sì